Il coordinamento regionale dei collegi Ipasbi della Campania 35.000 infermieri lancia la campagna a sostegno dell'occupazione. L'avvio oggi con la giornata internazionale dell'infermiere dedicata ai temi del lavoro, alla stabilizzazione di tutte le forme di precariato, alla mobilità regionale e extra regionale, allo sblocco definitivo del turnover. Una vertenza per il lavoro ma anche per la difesa del diritto alla salute per un'offerta sanitaria in linea con l'Europa. Di questo si è discusso nel corso del convegno sul tema meno infermieri meno salute. Il presidente del coordinamento dei collegi Ipasbi della Campania Andrea Della Ratta. Voi immaginate che in Campania teniamo gli infermieri e gli autisti sono dipendenti dalle cooperative mentre i medici sono strutturati o sono convenzionati col servizio nazionale e vengono pagati in quasi tutta la regione per concettoni di presenza. Loro parlano di rimposto spese ma rimposto spese non è perché questo comporta una serie di conseguenze e la legge sta dicendo che non è corretto questo il patto del rimposto spese. Le realtà locali seppur con le differenze territoriali hanno analoghe criticità come confermano i presidenti dei collegi di Salerno e Napoli Cosimo Cice e Ciro Carbone. Meno infermieri meno assistenza meno infermieri meno sicurezza. Il grido d'allarme che abbiamo lanciato è quello che abbiamo bisogno di nuove assunzioni perché mancano tanti infermieri in Campania, mancando gli infermieri non si possono garantire quei livelli essenziali di assistenza. Nel corso del confronto sono intervenuti numerosi direttori di strutture sanitarie tra i quali Anna Maria Minicucci, direttore generale Santo Bono Pausillipon, oltre ai presidenti di tutti i collegi PASVI della Campania e l'assessore ai giovani del Comune di Napoli di Alessandra Clemente.